campionato italiano finale agonisti si va a concludere il primo giro con Filippo Agostinacchio in seconda posizione c'è la DP 66 Giants SMP con un ritardo di una decina di secondi Tommaso Caffueri, poi c'è la Riesmonta in folle, Carelli con Simone Vali ritardo di 16 secondi poi ancora DP 66 l'ultimo cambio, arriva Lotta, Carlotta Morello dal cambio conclusivo no Grazie a tutti. Grazie a tutti.